Dal libro del profeta Amos Oracolo del Signore che farà tutto questo Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore in cui Chiara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva, con chi getta il seme I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno muterò le sorti del mio popolo Israele ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno pianteranno vigne e ne berranno il vino coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto li pianterò nella loro terra e non saranno mai diverti da quel suolo che io ho dato loro Il Signore annuncia la pace per il suo popolo Ascolterò che cosa dice Dio il Signore Egli annuncia la pace per il suo popolo per i suoi fedeli per chi ritorna a lui con fiducia Il Signore annuncia la pace per il suo popolo Amore e verità si incontreranno giustizia e pace si baceranno verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo Il Signore annuncia la pace per il suo popolo Il Signore annuncia la pace per il suo popolo Certo il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto Giustizia camminerà davanti a lui I suoi passi tracceranno il cammino Il Signore annuncia la pace per il suo popolo Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero Perché noi i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano E Gesù disse loro Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto E allora digiuneranno Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio Perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore Nei si versa vino nuovo in otri vecchi Altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano